La Fiera del Marmo di Sant'Ambrogio di Valpolicella è tornata ad aprire le proprie porte al ciclismo in occasione della terza edizione del Gran Premio General Store Trofeo Toyo Tires. A dare il via insieme a patron Diego Beghini, anche il primo cittadino di Sant'Ambrogio Roberto Zorzi e il team manager della General Store SGB, fratelli Curia Alessandro Spiniella. In regia organizzativa, con grande passione, anche Alessandro Beghini, che insieme al padre Diego hanno dato vieta a questa manifestazione che nel corso di poche edizioni è già divenuta una classica del calendario nazionale riservato agli Elite e Under 23. 135 gli atleti che si sono schierati alla via di questa prova, suddivisa in 13 tornate da 11,800 km caratterizzate dalla salita della Conca d'Oro e poi un tratto finale di 5,5 km che riporterà la corsa sul rettifilo d'arrivo. Prime battute di corsa con il gruppo sempre disposto in lunga fila indiana, segno che la velocità e soprattutto la bagarre sono sempre attive in testa al plotone. Riescono così a prendere il largo quattro atleti, si tratta di Riccardo Tosin della General Store, di Alex Raimondi della Carnovale Rime Sias, di Brian Olivo del Cycling Team Friuli e di Riccardo Verza della Zalfero Mobile Desiree Fiore. Questi quattro corridori che monopolizzano la prima parte di corsa riescono a guadagnare un minuto e mezzo di vantaggio sul resto del gruppo, ma la corsa rimane sempre vivace e in testa il quartetto si divide, infatti se ne va tutto solo Riccardo Verza che però di lì a poco verrà riassorbito dalle prime avvisaglie del plotone. Dunque il padovano vincitore appena 24 ore prima ad Acquiterme deve arrendersi al ritorno del gruppo, un ritorno guidato dalle maglie della società di casa, la General Store SGB Fratelli Curia e da quelle della Work Service Vital Care VIDEA. Sono queste le formazioni più attive in testa al gruppo che scandiscono quindi il ritmo in salita ma soprattutto sul falso piano disegnato sulle strade della Valpolicella. Siamo in un territorio che trasuda passione per il ciclismo oltre che a offrire degli ottimi vini e soprattutto un marmo famoso in tutto il mondo. Intanto il gruppo si seleziona nelle retrovie ed è qui che al chilometro 100 prende là una nuova azione molto interessante. A portarla sono 11 atleti, si tratta del dorsale numero 1 Carlo Francesco Favretto del suo compagno di squadra Samuele Carpene della General Store, quindi Enrico Spadini del Pedale Scaligero, Giovanni De Carlo della Carnovali, Leonardo Gianni della Overall, Nicolas Agostini della Trevigiani Energia Pura Marchiol, Riccardo Lucca della Work Service Vital Care VIDEA, Simone Grigione e Matteo Zurlo della Zalf, Martin Nessler della Sissio Team e Gabriele Petrelli del Cycling Team Friuli. Questi corridori li vediamo scollinare sulla Gran Premio della montagna di Conca d'Oro, mantengono 30 secondi di vantaggio sui più immediati inseguitori. Infatti è proprio in questa fase che il gruppo alle loro spalle inizia ad allungarsi e soprattutto a selezionarsi. Sono sempre meno gli atleti che rimangono in gara, siamo rimasti ormai con un'ottantina di corridori, per una prova sempre molto veloce e sempre molto aperta. Infatti quando siamo in discesa gli 11 atleti vengono raggiunti e quando mancano meno di 30 km al traguardo nasce una nuova azione che è promossa ancora una volta dal combattivo Carlo Francesco Favretto che corre sulle strade di casa a pochi giorni di distanza dal podio conquistato al Gran Premio Liberazione di Roma e che quindi vuole mettere a frutto questa ottima condizione fisica. Del drappello di testa fa parte anche Francesco Parravano della campana imballaggi Geotex 2000 che vedete però costretto a lasciare la compagnia a causa di un guasto meccanico. Al suo posto rientra Gabriele Petrelli del Cycling Team Friuli, mentre a comporre la testa della corsa ci sono anche Enrico Spadini del pedale Scaligero, l'Ucraino Jaroslav Parashak della Carnivali Rime Sias, Martin Nessler del Sissio Team, Matteo Milan del Second Team Friuli, Eric Chemelli del Team Trentino, Alberto Bruttomesso ed Edoardo Zamperini della Zalf, Giacomo Garavaglia e Samuele Zambelli della Work Service, quindi Marco Manenti della Palazzago e Nicola Sagostini della Trevigiani Energia Pura Marchiola. E' questa l'azione che riesce a fare la differenza grazie soprattutto all'apporto che danno Giacomo Garavaglia ed Edoardo Zamperini. La fiere della Work Service e quello della Zalf infatti si mettono in testa al trappello e macinano chilometri su chilometri per cercare di favorire il finale di corsa dei propri rispettivi compagni di squadra. Da una parte Alberto Bruttomesso, dall'altra Samuele Zambelli, due ruote veloci che già in questo invio di stagione sono andate a segno e che quindi vogliono fare altrettanto anche sul traguardo il Sant'Ambrogio di Valpolicella. Mentre siamo con le immagini sul gruppo che tenta di inseguire questi 13 atleti al comando che però riescono sempre a mantenere un margine che non va mai sotto i 40 secondi di vantaggio sul gruppo. Un gruppo dal quale usciranno anche altri atleti che cercheranno di riportarsi sulla testa mentre proprio sulla corsa e negli ultimi 10 chilometri di corsa inizia a piovere e quindi anche la pioggia rendere più insidioso il finale di gara sulla testa. Come dicevamo rientra prima il danese Magnus Ennenberg della Rostese autore di una bellissima azione di rimonte e poi toccherà a Matteo Zurlo l'alfiere della Zalfero Mobile Desirefjord alla caccia ancora del primo successo in stagione. Prosegue quindi l'azione dei 13 battistrada che vanno ad affrontare per l'ultima volta la salita di Conca d'Oro e qui ad alzare nuovamente il ritmo è Giacomo Garavaglia della Work Service Vital Care Videa e insieme con lui anche Gabriele Petrelli del Saiken Team Friuli. Sono loro che cercano di fare la selezione in testa al gruppo e vedete che rischia di farne le spese il giovane Vicentino Alberto Bruttomesso. Per lui già tre vittorie in stagione ma in questo tratto di salita accusa il ritmo fatto dagli avversari. 150 metri il suo ritardo poco prima dell'ultimo gran premio della montagna di giornata. Vedete è un Alberto Bruttomesso che prova in tutti i modi a rimanere agganciato al drappello di testa. Se vuole provare a vincere la corsa deve riuscire a restare sulla scia dei suoi compagni d'avventura e ci riuscirà davvero per un soffio. Siamo allo scollinamento, le salite sono quindi concluse. Vedete che Alberto Bruttomesso che ha accusato anche qualche attacco di crampi riesce comunque a mantenere la scia dei migliori di giornata. Con le immagini siamo andati intanto su Matteo Zurlo che sta tentando di rientrare quando si transita al suono della campana. Si transita in senso inverso rispetto all'arrivo vedete che a Sant'Ambrogio di Valpolicella è già presente il pubblico delle grandi occasioni per un finale che si annuncia assolutamente incertissimo. A rilanciare l'azione è nuovamente l'instancabile Carlo Francesco Favretto della General Store che viene però riassorbito dal drappello dei Battistrada su cui è già rientrato Ennenberg e a cui si aggiunge in questo momento Matteo Zurlo della Zalfero Mobile Desirefior quando siamo a 3 km dal traguardo ormai la questione per la vittoria è ristretta a questi 11 attaccanti e a provarci nuovamente è proprio Matteo Zurlo che non appena recupera le ruote dei Battistrada prova ad andarsene tutto solo il suo attacco viene però rintuzzato trova maggior fortuna l'attacco di Edoardo Zamperini altro alfiere della Zalfero Mobile Desirefior che all'ultimo chilometro transita con 100 metri di vantaggio sui suoi compagni d'avventura lui che è al primo anno veronese e doc veste la maglia della Zalfa e prova il tutto per tutto per un colpaccio che sarebbe davvero clamoroso ma a riportare tutti sulla scia di Zamperini ci pensa Giacomo Garavaglia e sulla sua ruota c'è già Samuele Zambelli in rampa di lancio verso la retta d'arrivo siamo ormai negli ultimi 500 metri si rialza Zamperini Garavaglia dà il tutto per il tutto per il compagno di squadra e poi sarà volata per decidere il successore di Stefano Di Benedetto che si impose su questo traguardo lo scorso anno si fa da parte anche Giacomo Garavaglia ed è già partita la volata dall'ultima curva esce in prima posizione Alberto Bruttomesso della Zalfero Mobile Desirefior che va così a firmare il poker stagionale davanti a Samuele Zambelli della Work Service Vital Care Videa e a Carlo Francesco Favretto della Genera Store SGB Fratelli Curia completano l'ordine d'arrivo Matteo Milan, Martin Nessler, Jaroslav Paraschak Magnus Henenberg, Matteo Zurlo, Gabriele Petrelli e Nicolas Agostini e ora le ha parola ai protagonisti di giornata Alberto Bruttomesso oggi poker a Sant'Ambrogio e Valpolicella che gara? Eh sì, sono proprio contento e non pensavo ad andarsi a finire così perché speravo in un arrivo in volata di un gruppo ma di andare in fuga non pensavo poi mi sono trovato in fuga e diciamo che mi è andata bene perché sono contentissimo Sull'ultimo passaggio della Conca d'Oro ti stavi quasi staccando o hai gestito le energie? Eh sì, sono arrivati un po' di crampi però diciamo che sono riuscito a tenere duro e poi sullo scolinamento ho respirato un po' e in discesa sono rientrato E' Roma in superiorità numerica e in finale ero Roma in tre e ha provato Edoardo e gli stava quasi andando bene e poi appena stato ripreso Edoardo è partito Zurlo e che poi diciamo che mi ha un po' spianato la strada Un finale spettacolare a chi la dedichiamo? Sicuramente tutta la squadra che ci supporta sempre la squadra e tutta la famiglia finanzata a chi la dedichiamo in 순sata